Se la nostra economia cresce sempre meno e la produttività ristagna da oltre 20 anni, le cause vanno ricercate non tanto nel ventennio presente, quanto in quello che l'ha preceduto. Negli anni 70 e 80 si è del resto accumulato, per dirla con Carlo Cottarelli, il macigno del debito pubblico che ci schiaccia. Questo nelle parole del giornalista del Sole 24 ore, in un articolo del 2016. L'emergenza economica nella quale si era trovato il nostro paese dopo una crisi petrolifera, che era iniziata 48 anni fa nel 1973, era un po' rientrata all'inizio degli anni 80 perché c'era stata una stabilizzazione dei prezzi del petrolio. Però sempre alla fine degli anni 70, nel 1979, voi sapete che era scoppiata la rivoluzione in Iran e questo ha creato un nuovo sussulto nel prezzo dell'energia. Ovviamente quando cresce il prezzo dell'energia c'è inflazione, in questo caso in Italia l'inflazione all'inizio degli anni 80 era andata al 20% e c'è tra l'80 e l'84 anche una certa perdita occupazionale. Poi bisogna aggiungere, bisogna spiegare che l'Italia dipendeva dall'estero per quanto riguarda il fabbisogno energetico, un po' come oggi. E' stato calcolato che nel 1987 circa l'80% degli idrocarburi provenivano dall'estero. Quindi vuol dire che praticamente la totalità del nostro consumo di energia dipendeva da acquisti di petrolio o di gas fatti all'estero. E infatti l'Enel, che era una società statale negli anni 80, perdeva in lire 2.200 miliardi. Un euro sono circa 1950 lire. Nel mese di giugno del 1981 il governo ha varato un provvedimento che ha cambiato radicalmente la storia economica del nostro paese durante gli anni 80 ed è un provvedimento che ha avuto conseguenze ancora adesso sulla nostra economia. Stiamo parlando del divorzio tra il Tesoro e la Banca d'Italia. Sostanzialmente la Banca d'Italia finanziava il deficit dello Stato stampando banconote e così cercava di compensare il debito pubblico con l'inflazione, cioè il rincaro dei prezzi. Ora invece il deficit non sarebbe più stato finanziato dalla Banca d'Italia e invece si decide di emettere dei titoli di debito pubblico come i BOT, i CCT, i BTC. Che cosa sono dei titoli di debito pubblico e perché conviene comprarli? Detto in maniera molto semplice, un debito in economia è un prestito a interesse. Io chiedo del denaro a qualcuno ma poi lo devo restituire con gli interessi. Quindi se io acquisto una parte del debito pubblico oggi, domani questa parte di debito pubblico varrà di più perché varrà il prezzo che io l'ho pagata più gli interessi che sono maturati nel corso del tempo. Quindi si fa debito pubblico e si emettono BOT, si emettono BTP, si emettono CCT e si continua a fare debito pubblico. Alcuni difendono questa scelta, però nei fatti sostanzialmente la Banca d'Italia perse il controllo del debito pubblico. Perciò se il debito non viene sanato, gli interessi continuano a crescere e non può bastare mettere titoli di Stato perché si arriva ad una spirale che poi crea un circolo vizioso. Infatti il giornalista del Sole scrive proprio Nel 1981 avviene il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, ma l'obiettivo di imporre una maggiore disciplina fiscale viene di fatto mancato e anzi, venendo meno il fidanziamento monetario del deficit, si dà il via all'aumento della spesa per interessi. Intanto il clima generale però sta per cambiare repentinamente. Ai campionati mondiali di calcio in Spagna, dopo aver battuto il mitico Brasile, l'11 luglio del 1982 l'Italia di Berzot batte la Germania 3 a 1 e si guadagna il terzo titolo mondiale. È l'inizio degli anni Ottanta da bere. Il giornalista del Sole però ci ricorda che i 70 e gli 80 non vanno ricordati solo per le finanze statali fuori controllo. Sono anche anni di grandissima trasformazione e modernizzazione del nostro paese, che troverà un posto tra le maggiori potenze industrializzate. E c'è nell'aria questa euforia, questa voglia di essere dinamici, efficienti. Questa decade, ad esempio, ha portato ad un fenomeno folle di esercizio fisico. I video di allenamento erano di gran moda, incoraggiando le donne ad essere magre, ma anche forti, in forma. Le star dell'aerobica arrivavano dagli Stati Uniti, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, e a tempo di musica eseguivano esercizi a corpo libero con queste tutine di tessuto sintetico e ovviamente gli immancabili scaldamuscoli ai polpacci. anche le modelle degli anni Ottanta erano magre, ma atletiche. E le attrici erano toniche, ma procaci, femminili nello stesso tempo. Qui vedete una delle icone sexy degli anni Ottanta, Kim Basinger, a fianco di Sean Connery, che è il più celebre interprete di James Bond. Kelly Lebrock, che rappresentava una donna sexy ma dinamica, in carriera, di successo, e gioca con questa aria che esce dalla grata nel posteggio sotterraneo di una grande azienda, un po' come faceva Marilyn Monroe nel suo celebre film. La donna, invece, androgina e senza curve, arrivò dopo, negli anni Novanta, con Kate Moss, scarna e pallida, quasi esangue, che incarna questo nuovo tipo di bellezza femminile. Passando invece a questa immagine di dinamismo nel territorio maschile, andiamo allora a vedere come poteva essere l'uomo negli anni Ottanta. Era un uomo, abbiamo detto, dinamico, doveva mostrare di essere in carriera, e aveva un look molto diverso da quello attuale. La cosa più terribile, secondo me, erano le camicie, camicie hawaiane, camicie dal colletto stretto, addirittura con il collo alla coreana, poi le giacche, queste giacche con queste scollature ombelicali, pantaloni a vita altissima, e sono rimasti intramontabili degli anni Ottanta forse soltanto gli occhiali da sole, che erano onnipresenti, onnipresenti. Poi si vedevano anche delle cose abbastanza improponibili, una menzione speciale va rivolta a quei giubbotti di pelle rossa, e chi non vorrebbe pagare 400 mila dollari in un'asta per il chiodo rosso di Michael Jackson in thriller? Beh, forse gli avrebbe spesi volentieri Eddie Murphy, eccolo qua con questa tuta in pelle rossa, la scollatura ovviamente deve arrivare fino all'ombelico, se no non andava bene. Comunque, tornando allora all'economia degli anni Ottanta, nel 1990, quindi alla fine del decennio degli anni Ottanta, il debito pubblico aveva superato il 100% del PIL, il PIL è l'acronimo che indica il prodotto interno lordo, vuol dire che se lo Stato guadagna 100, spende 100. La pressione fiscale perciò aumentava per cercare di frenare questa emorragia del debito pubblico, però la spesa rimane fuori controllo, gli interessi per pagare il debito innescano questo circolo vizioso di cui vi avevo detto. La gestione delle imprese pubbliche poi aveva perso completamente di vista i criteri dell'efficienza, della competitività con il settore privato, della capacità di stare al passo con i cambiamenti. Se vogliamo indicare, oltre a questo aumento del debito pubblico, un'altra ragione del buco finanziario che si è creato a partire dagli anni Ottanta, dobbiamo indicare come altro elemento distorcente dell'economia i trattamenti retributivi dei dipendenti delle aziende pubbliche. La difesa corporativa, se vogliamo, cioè la difesa fatta dai sindacati, dalle associazioni di categoria, dei salari, dei dipendenti pubblici, prevale sulla difesa dei milioni di italiani che devono pagare le bollette, l'elettricità, il gas, l'acqua, il telefono, e le bollette sono gonfiate a causa di questi trattamenti salariali che sono molto superiori alla media. Gli statali guadagnavano bene negli anni Ottanta e per tornare allora a Giuseppe Schlitzer, sul Sole 24 Ore concludeva dicendo che un uso politico della spesa pubblica per favorire il consenso in una società scossa dall'autunno caldo e dal terrorismo brigatista sono le ragioni che spiegano questa crescita impetuosa insieme al ricorso facile al deficit spending favorito da rendimenti reali negativi su BOT e BTP.